Ciao Bats! Benvenuti all'ottavo episodio di Sine Throw The Third, che dovrebbe essere il settimo, sinceramente, perché l'altra volta si è stoppato! Per fortuna, ecco l'ho scritto, il gioco l'avevo salvato dopo la missione che abbiamo fatto quella del gatto, vabbè io lo chiamo quello del gatto, ok. E da là ripartiremo, così possiamo guardare il video che si è interrompto. Allora... a riguardare l'università. Madonna, sti palli di caricamenti! Andate mai un attimo anche se voglio essere registrato, perché avevo un po' di problemi sti giorni con Fraps, è odioso. Ok, rieccoci qui, rieccoci qui, il mio pugno è devastante! Il mio pugno è devastato al mondo! Garage, che macchina prendiamo? Mi prenderei la... questa Sì, vediamo questa La principale, che va a fare di più veloce, sinceramente Nell'altra Ciao, ciao, ciao Allora Missione Qui Vedete che mi 상태 2006 D. Sd4 Sd4 slow Nak curva madonna che curva che curva schifo sta qua ferma ferma parcheggiamo scusate 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 no il palo no aspetta che parcheggio no il palo no hai qualche problema a te? hai qualche problema? hai qualche problema? hai qualche problema? hai qualche problema non è una prima cosa e qui n'è un po' che ti è un po' l'acqua è barata e sono la migliorata seduta certo potete creare che è ora di ripetare ma ho fatto con queste malattie voglio a Loren e voglio ora quindi dove sta? non c'è idea ma 10k dice che sta scendendo nel andiamo a fare spesa salvataggio la missione è finita e ne abbiamo un'altra avete visto la missione? è lunghissima ragazzo c'è messo una vita a farla era quasi impossibile ma ce l'abbiamo fatta non puoi parlare scusi una moto grande non lo eserro piepe pit pit papa bella questa bimbi allora qua è un'altra missione ma credo che sia la stessa forse è il continuo di quella precedente che era il bj poco come la facciamo la stessa c'è come due punks cosa sull'interno ok molto tranquillamente si si ok ah bisogna ucciderli tutti ok no 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 qui la bomba scusi 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 livello in più ok ma quando mi piace le marche c'è no le marche che cazzo eccolo qua ma come un colpo in testa no no meglio meglio no dove cazzo sta andando non a dire dai 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 su corri 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 entriamo entriamo vai oh che cazzo è questo che cazzo che cazzo che cazzo che cazzo 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 pausa pranzo pausa pranzo pausa pranzo ma madonna madonna cazzo 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 non mi fa andare in bagno Oh, questo può essere bene. Un minigun! What the fuck? Orco demonio! Oh, la testa, la testa. Ai 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 che chiede un colpo solo! Ah, perlol. no adesso dovrei ricaricare no shonny k shonny dai muori muori questo qua è troppo grosso no ancora con le bombe ma che palle oh yeah baby hai visto la morte del tuo amico eh aspetta cosa ho visto siiii ora ci divertiamo troppo lento eh troppo lento guardate come corre aiiei che male si ma ehm ah ok devo salire come faccio a salire ci sarà una scala come si fa a salire oh che palle preferisco questa almeno spara ehm ma io non ho capito dovesse salire a assurdo ah eccole quale scale porco car bly dni ges swinging nooo me l'anno ucciso lol io soldi no non vuole spazio voto e roto il cazzo la gente c'è un orjona qua un orjona un orjona questa è la papa non guardate papa no anche questa papa papa no 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 il gioco sto morendo tranquillo l'ho appeso guardate questo guardate questo com'è vada vola vola si vola nel mondo vola vola questo mezzo quanto mi possa credere si sono l'ufficio ora ok andare di qui sono andato a tutte le parti di questi hacking vai hacking hacking anche già anche già ah noi dobbiamo difendere ok vai ricarica devo cambiare arma troppo 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 dai 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 hacking veloce hacking porco can guardalo che figlio che figlio si muore muore e eh no questo si chiama schifo muore schifo rianima il tuo amico no no ops vabbè ha finito hacking si si animerà da solo powder nel mirino completata anche questa missione 6.000 euro un'altra modifica la macchina non possiamo andare avanti che missione abbiamo dopo bella bel salto avete visto che figata non l'ho fatta apposta salviamo come sempre così se succede qualcosa non abbiamo problemi indietro indietro allora no tab non ci capisco in caso questi bossanti allora oggi facciamo un po' di posta per te il problema del bag vabbè prossima volta prossima volta missione denaro oh abbiamo soldi yeah eh potenzia bonus si prendi questo eh no cazzata vediamo combattimento questo forse no allora abilità borseggio spazio questo prossima volta cazzeggio altro che missione è che l'estero come si può fare il massimo a e livello richiesto 14 bestia bestia denaro extra trucchi trucchi messi di trucco no useremo forse la visione finale telefono ok signbook signbook ahhh che figata uccidiamo il dj vi vi ricordo che anch'io sono un dj ehhh vediamo come si fanno ste missioni questa è una missione secondaria come avete visto allora prego da narskate sto facendo dollari dollari ma dove cacchio è spero che non sia tanto lontano perchè non lo voglio fare la strada ho bucato le gomme a qualcuno guardate voi che schifo no ma oh mappa dimmi la strada giusta prima era quella la strada no no che non ce la fai più quello schifo di strano si trovo vai a slander spara un po' di tutto tutto l'uomo quando esce fai là fuori K12 io ho una K12 no io non ho una K12 beh chieserie scala discoteca aia chi spara rilax ma io non ho capito bene questa missione friendly fire vediamo questo cos'è? cyberlands mi vuolete spiegare come cacchio si fa sta stacca la spina a quel dj ok usa questa icona per individuare l'obiettivo cosa che fa di trance ahhhh ok ahhhhhhh ok non devo sparare la radio è una macchina ecco lì 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 tutti è questa? ok d'accordo e facciamo un'altra visto che ho capito come si fa strafiga sta radio sign book questo sono il comitato biscazi vabbè preoccupati di stilport siamo contenti che alfonso non sia finita questa cosa quando doveva sicuramente che sia i suoi amici del crono per farla arrivare non ho paura che amica buon andiamo a fare visita a questo e poi chiudiamo la puntata no il palo non si distrugge preso dai raga ce la faremo non diventa molto lunga questo episodio ma me ne foto ma dovete guardare voi muoooooo ok allora vediamo the group ok devo uccidere i suoi amici ma non ho capito in che senso cioè devo uccidere le persone che figata che figata l'animazione che figata l'animazione l'avete visto anche voi no è spettacolata scena tornate indietro e riguardatevela vorrei fare il montaggio cazzo non so farlo col programma che rimanere gioco ah questi basta uccidere i suoi amici basta vane però basta uccidere i suoi amici ci sono le gang tranquilli noi tra i bestioni non siete in grado di cantare dai non voglio farla lunga buttatelo fuori dai è noioso dai oh senti che dorme dove sei te? bam che botta vediamo vediamo dai vieni fuori cazzo that's right ma che figata le immazioni che lui muore all'interno cioè è troppo figo quanto devo arrivare a tipo 5 stelline eccolo 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 devo sbrigarmi devo sbrigarmi no eccolo quella minigun che palle lag perfetto che cazzo di arma ho in mano? si va bene ma cazzo dai 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 che devo ucciderti yeah baby devo provarlo però eccolo che muore eccolo che muore ecco eccolo che muore dai devo riuscire a vincere dai 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 bravo recupera recupera dove siete adesso? è figa la loro macchina io la prendo che cazzo è stava? via 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 Porco cosa ho visto Via 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 porca puttana Via 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 Oh non riesco a guidare con una ruota Cazzo di impostare la mappa 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 Dov'è? Dov'è? Dov'è qua Una casa cazzo una casa qua Questa è cosa spero Sì Stai scherzando vero? Andiamo qui Stai scherzando? Dov'è anche girarmi No madonna macca no Beh io prendo la macchina qui dietro Cazzo Venite giù Voglio la vostra macchina Non mi interessa Mi sono venuta per caso Capito? Ok Bulldog Questo di blocco No 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 Se no l'avrei già distrutto Vai 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 a un negozio vai veloce 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 posto di blocco nooo dai corri 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 Ah, che rompono! Dai dai, entra! 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 Si, si, si! Apri porta, apri porta! Vai all'attica! Eeeh... The Sound of the Third DJ e... L'omino dei capelli rossi Il fattone qua, il fattone Eeeh, è tutto Alla prossima e... Ciao Vez! Doveva essere l'effetto, cazzo! Doveva essere l'effetto! Devi ricaricare anche, vaffanculo! Ciao a tutti! No!